Noi pensiamo che la finanziaria... No dai, non ripeto, dai! Parliamo invece delle tue pre... Non è stata tagliata la sanità, non è stata tagliata la cultura. No dai, non ti ripetere. Sì, è molto bella, molto bella. E queste giornate? Noi stiamo cercando di cambiare l'Italia. No, questo no, dai, troppe... Comunque... Troppe trasmissioni politiche, parla di qualcosa di allegro. L'opposizione non sa che pesci prendere. Facci qualcosa di allegro. La finanziaria è una finanziaria equa. Positivo. E da tempo... Sì, positivo. Non solo non tagliamo le tasse, ma aumentiamo i servizi. Dai, che ti dici a tagliare poi. No, le tasse le diminuiamo. Dai, parliamo invece dell'esperienza nuovamente di Radio 2. Abbiamo abbassato il canone Rai, però siamo costretti a pagarlo. Meglio alto che però è che si evadeva. No, comunque andremo in Europa con le carte in regola. Senti, Piffa, chiudiamo la radio politica. Noi abbiamo la nostra sovranità che va rispettata. Scusate, c'è il Consiglio dei Ministri che mi aspetta. No, sono il suo portaporto. Una foto, una foto. Dai, dai. Una foto. Ma quello tutti? Ma che cazzo?